Dico che abbiamo fatto quello che bisognava sempre fare. È con questo stato d'animo che il Presidente del Veneto Luca Zai affronta il Consiglio straordinario sulla vicenda pedemontana, un'opera le cui vicissitudini burocratiche e giudiziarie, il sequestro della galleria, il ritrovamento di materiale inquinante, l'incidente sul lavoro, hanno fatto alzare gli scudi di associazioni ambientaliste e delle opposizioni in regione. Nella seduta straordinaria del Consiglio regionale si dibatte proprio la mozione dei consiglieri di opposizione che chiedono vengano eseguite verifiche straordinarie su esecuzioni, materiali e opere in cemento armato di tutto il tracciato per la sicurezza dei lavoratori e dei futuri utenti. Mozione che dovrà andare al voto, ma sulla questione il Presidente Zai è quanto mai tranquillo. Non è un processo, vorrei ricordare che noi abbiamo coinvolto tutte le istituzioni dello Stato, la Corte dei Conti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Vocatura dello Stato che ha peraltro l'Espresso dei Pareri. Ho nominato come Commissario della Pedemontana, è bene che lo si ricordi, visto che nei giornali non si scrive mai, il Vice Avvocato Generale dello Stato, l'Avvocato Marco Corsini, che non è mio amico, non è il mio vicino di casa, ma è il numero due dell'Avvocatura dello Stato. Più di così non so cosa fare. Noi siamo male che vada a parte l'ESA, cioè siamo quelli che sono difesi dalla Procura, abbiamo fiducia nella Procura, abbiamo 94 chilometri e mezzo di strada che sta procedendo verso l'obiettivo di realizzarla entro 2020, la realizzeremo. Ci resterà in sospeso quei 7 chilometri di Galleria di Malo, peraltro dove c'è stato il morto con l'incidente nel cantiere. Punto.